Sono proseguiti al Tribunale di Messina davanti al GIP Salvatore Mastroeni interrogatori dell'operazione antimafia beta scattata la scorsa settimana nella città dello Stretto. L'inchiesta che ha svelato l'esistenza di una cellula catanese di Cosa Nostra che faceva affari in pianta stabile da anni in città ha un filone dedicato alle talpe che hanno permesso all'organizzazione di rimanere a lungo a riparo dalle indagini delle forze dell'ordine. Un filone che all'apparenza pare ancora aperto e che potrebbe portare ad ulteriori sviluppi da parte del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita. Davanti al GIP Mastroeni sono comparsi tra gli altri interrogati anche l'autista della procura Lorenzo Mazzullo e sua moglie la sovrintendente della polizia Pasqua Cacciola entrambi assistiti dall'avvocato Salvatore Silvestro. Le accuse contestate sono identiche per entrambi con l'aggravante di aver favorito il gruppo mafioso, rivelazioni di segreto d'ufficio e accesso abusivo al sistema informatico Interforze. Per Mazzullo sono stati già disposti gli arresti domiciliari quindi ieri si è svolto il rituale interrogatorio di garanzia. Per la poliziotta invece la procura ha richiesto la misura interdittiva della sospensione per due mesi dalle funzioni quindi ieri si è tenuto il primo interrogatorio per consentire poi al magistrato di decidere se applicare o meno la sospensione. Alla base di tutto il loro coinvolgimento c'è un'intercettazione in cui Mazzullo interagisce con il capo Cosca Enzo Romeo e l'imprenditore Biagio Grasso. È Grasso che chiede notizie a Mazzullo su eventuali iscrizioni nel registro degli indagati e a quanto pare Mazzullo afferma addirittura che anche un carabiniere in servizio in procura era disposto ad effettuare accessi al sistema informatico per suo conto. Al di là delle intercettazioni agli atti comunque ieri mattina sia Mazzullo che la Cacciola hanno negato con forza di aver mai fatto qualcosa di illecito. Grazie. Grazie. Grazie.